Siamo qui con il signor Paolo che ci racconterà di questa situazione che si è venuta a creare con il suo appartamento. Come si è creata questa situazione? Come è venuta a crearsi questa situazione di sfratto? Perché? Questa situazione è venuta a crearsi in quanto che io con una pensione minima facevo affidamento su questi soldi che mi arrivavano di affitto a queste due ragazze di cui hanno bisogno che loro abbiano un'abitazione. Purtroppo con un somo dispiacere devo dire che non posso andare avanti così, in quanto che il minimo per poter avere una sopravvivenza ne ho bisogno. Perciò di questi soldi che mi arrivavano dall'affitto che loro abbiano, mi rende impossibilitato a mantenere le nuove linee.